Io, guardi, non ora ma anche quando ero presidente della Commissione Giustizia alla Camera, di fronte a una proposta di legge di abolizione delle intercettazioni sui reati contro la pubblica amministrazione, ero presidente della Commissione e mi schierai contro. Sono dell'idea che sono proprio reati che spesso consentono di arrivare poi all'individuazione di associazioni criminali veramente crudeli come quella mafiosa. Non possiamo assolutamente cancellare le intercettazioni per corruzione o per altri reati contro l'APA. Torno alla relazione del Ministro Nordio perché oggi in aula, oltre a fare riferimento alle indagini per mafia e terrorismo, ha fatto un'aggiunta, cioè ha detto anche per i reati satellite. È in qualche modo stato ascoltato anche il suo appello? Non credo che il Nordio abbia bisogno di ascoltare il mio appello. Io non credo affatto, come qualcuno dice, che ci sia la volontà di limitare le intercettazioni, quantomeno per mafia, terrorismo, reati spia. Io credo che bisogna solo porsi un problema. È giusto che si intercetti anche magari al di là dei limiti autorizzativi del GIP cercando i reati comunque pur che sia? O è giusto che una volta che si intercetta comunque si rispetti l'autorizzazione? Questo è il tema. Credo che nel dibattito che si è aperto dopo le parole del Ministro e dopo la cattura di Messina Denaro andavano un po' messe a posto alcune cose. È detto che le intercettazioni sono strumenti indispensabili per ricercare il reato. Quando dice che c'è qualcosa che non va, a cosa si riferisce? La commissione che presiedio sta ascoltando una serie di tecnici, professori. È emerso che il Trojan, che è un captatore informatico, è capace di alterare il contenuto dei cellulari. Questo per me è un fatto pericolosissimo perché può essere alterato quello che c'è scritto ad esempio in un messaggio. Cioè falsificare? Falsificare, alterare e manipolare. E c'è stato spiegato che non c'è tracciamento, cioè non si riuscirebbe nemmeno a ricostruire l'avvenuta manipolazione. Tutto questo deriva dal fatto che l'uso del Trojan è disciplinato più o meno come le intercettazioni telefoniche. Ma intercettare una conversazione è invasivo sì, ma addirittura manipolare è tutta altra cosa.